la preparazione di un tiratore in compagnia di massimo fabrizi che ci seguirà indicandoci la preparazione dei suoi ragazzi qui al suo campo di tiro iniziamo a parlare da quello che è praticamente l'approccio proprio alla pedana quindi la posizione corretta da mantenere per andare a bersaglio partiamo da qui si partiamo dalla posizione dei piedi dalla posizione del fucile in spalla e vediamo praticamente quali sono gli errori e quali sono le cose giuste da fare andiamo massimo parliamo innanzitutto in questo caso di fossa olimpica questa è la posizione dei piedi corretta che le scuole insegnano questa è la base che è la cosa giusta perché mettendo i piedi in questa maniera permette al ragazzo comunque sia di fare un movimento di torsione sia a destra che a sinistra quindi piedi perpendicolari si praticamente a 45 gradi 45 gradi poi ognuno di noi praticamente può leggermente spostarsi più a destra oppure spostarsi più frontalmente questa è la base poi da qui praticamente ognuno se la gestisce un po come come meglio crede aspetto importante è la posizione del fucile in spalla e come il ragazzo mette le spalle e la posizione corretta è questa poi dopo ci sono delle dei tiratori che per esempio che sbagliano praticamente hanno la spalla sinistra più alta o la spalla destra più alta i gomiti devono essere come il volo della starna a 45 gradi anche i gomiti perché praticamente sempre per un discorso di di movimento del bacino se c'hai la spalla più alta o la spalla più bassa tendi fai più fatica praticamente nel movimento certo c'è un modo consigliato per portare il fucile in spalla che adesso cerchiamo di andarlo a vedere a imbracciare in questo punto della spalla praticamente c'è un osso un incavo dove praticamente il fucile il calciolo va a posizionarsi sotto l'osso sotto la clavicola esatto scivola e si mette perfettamente in spalla il fucile di solito si imbraccia con la punta all'alto si appoggia in spalla e poi si scende di solito poi dopo ci sono sempre queste sono sono teorie poi dopo ci sono delle persone che imbracciano il fucile perpendicolare alla buca dipende praticamente da come uno si trova meglio con l'allenamento si percepisce qual è il modo migliore per avvantaggiarsi diciamo sullo sgancio esatto quando nel tiro vengono i ragazzi giovani oppure anche i signori che vengono a provare a sparare la prima cosa che cerco di capire è vedere l'occhio dominante se ha l'occhio dominante sinistro e lui è destro bisogna apportare delle modifiche perché sparando in quella maniera lui vedrebbe come se vedesse due fucili e due piattelli l'occhio dominante per gli amici che vorrebbero magari iniziare e non hanno ben presente cosa sia è quell'occhio che praticamente ci guida verso il bersaglio esatto praticamente ci sono delle persone che sono sinistre e hanno l'occhio dominante destro quindi praticamente bisogna mettere degli occhiali cercare di bendare di bendare con uno scotch non trasparente opaco e che lui almeno possa tenere l'occhio aperto perché la cosa fondamentale è comunque sia avere tutti e due gli occhi aperti un altro aspetto è il puntamento dove posizionare le canne nel momento che uno chiama il piattello io dico ai ragazzi di mettere le canne sopra il testimone giallo leggermente fuori dalla buca praticamente loro lì si posizionano, lì focalizzano con gli occhi e poi chiamano il piattello in quel momento lì nascono, vengono fuori gli errori dove praticamente quando uno chiama il piattello che succede che come sente la voce cerca di andare a cercare il bersaglio quindi si muove con le canne alla ricerca di un bersaglio che ancora non è uscito per paura di non andarlo a prendere questo movimento che cosa fa? fa scomporre il tiratore e praticamente fa fare lo zero al 99% è uno zero certo perché poi si arriva in ritardo sul piattello che è esatto perché praticamente uno si può muovere a sinistra e il piattello va a destra e in quella frazione di secondo praticamente perdi diciamo l'attimo fuggente e praticamente fai zero e buon regola è chiedere a rimanere fermi il momento che uno riesce a vedere il bersaglio parte in progressione e lo va a colpire tutto sta nella nostra attenzione perché se noi abbiamo un pensiero estraneo o un pensiero di qualsiasi tipo il nostro cervello non è concentrato al 100% e quello ci permette che il piattello faccia dei metri in più e noi non riusciremo mai più a colpirlo la concentrazione l'attesa al proprio turno di fuoco per non avere pensieri esterni che ti possono distrarre l'attenzione quindi non sei concentrato al massimo sull'uscita del piattello dovresti cercare di pensare a tutte cose inerenti al tiravolo come per esempio la pressione della mano sulla pistola del calcio oppure del calciolo che si appoggia alla spalla e fa una pressione la mano sinistra che prende il sottocanna praticamente fa un'altra pressione tutte queste cose che pensi ti aiutano a non avere pensieri esterni che ti distraggono quando praticamente chiamiamo il nostro cervello deve dare l'input giusto agli occhi da vedere prima possibile il bersaglio che esce certo anche perché c'è il tiratore il piattello e tutto il mondo fuori come si suol dire non ci sono serie da 25 piattelli ma 25 serie da un piattello esatto